Te l'ho già detto mille volte, non puoi prendere le cose senza chiedermelo! Ti prego, perdonami, non dimenticarmi! Certo che no, ricorda sempre, perdoniamo, non dimentichiamo! Hai ragione, sempre perdonare, ti voglio bene! E ora ridammi la mia maglietta! Certo! Guarda dove cammini, perdente! Scusa? Sei tu che mi sei venuta addosso? Chiara, scusa, tu hai sentito qualcosa? Sì, ha detto che sei stata tu! Chiara, dovevi dire di no! Ops, scusa, me lo dimentico sempre! Stammi alla larga così non ti vengo addosso, hai capito? Capito! Bene, Chiara andiamo, forza! Non ci crederai mai, prima Crist... Scusa, tu chi sei? Ah ah, prima Cristina... Scusami, io non ti conosco davvero, chi sei? Daniel, sono Kata, la tua ragazza! Io non ho una ragazza, quindi scusami, ora vado! Se non sa chi sono, vuol dire che ho fatto qualcosa per la quale non hai riuscito a perdonarmi! Mi ha dimenticata! Non posso crederci che il mio ragazzo abbia scelto di dimenticarmi! No, voglio comunque ricordarmi di lui! Giulia, questo è il giorno più brutto di tutta la mia vita! Scusa, come sai il mio nome? Chi sei tu? Questo scherzo non è più divertente! Di che scherzo stai parlando? Non so chi sei! Davvero non sai chi sono? Dovrei saperlo! Certo che dovresti sapere chi sono! Sono la tua cavolo di migliore amica da 12 anni! Sono stata lì quando avevi i pidocchi, quando il tuo ragazzo ti ha tradita 300 volte! Io ero lì, quindi sì! Io mi aspetto che tu ti ricorda che cavolo sono! Mi dispiace, non so chi sei davvero! Perché tu ti hanno deciso di dimenticarsi di me? Cos'ho fatto di male? Sono a casa! Ehi, sorellina, come stai? Aiuto! Che succede? C'è un'estranea in casa! Dove? Tu sei l'estranea, chi sei? Sono tua sorella! Io non ho una sorella! Cosa? Avevamo un accordo, ricordi? Mai dimenticare! Sempre perdonare! Lo avevamo promesso! Non dobbiamo mai dimenticare! Ma sempre perdonare! Non ti ricordi! No, non mi ricordo! E ora vattene via! Non capisco perché tutti si sono dimenticati di me! Se la dimentico anch'io farà molto meno male! Quindi... Attenzione! A causa di un errore di sistema, tutte le persone si sono dimenticate di te per errore! Chiediamo scusa per il disagio, tutto sta per tornare alla normalità! Grazie della comprensione! Quindi non mi hanno dimenticata! Vale anche per me, giusto? Tornerò a ricordare tutti! Negativo! Le tue scelte sono permanenti! Sorellona, sei tornata da scuola? Che cavolo sei tu? Come? Chi sono? La tua sorellina, non ricordi? Sì, certo! Io non ho una sorella, mi dispiace! Non ci credo! Ti sei dimenticata di me! Ma noi avevamo una promessa! Perché lo hai fatto? Mamma, Cata si è dimenticata di me! Cosa hai combinato, Catarina? Non lo so, non mi ricordo! Come hai potuto dimenticare tua sorella? Non lo so, mamma! C'è stato un errore nel sistema! Tutti avevano dimenticato che io fossi, anche se non avevano scelto di farlo! Quindi magari è successa la stessa cosa! Mi sono dimenticata di lei! Anche se proprio... non mi ricordo! Cata, eccoci finalmente! Giulia, ti ricordi di me? Certo che sì! Ma ieri sei venuta a scuola, non ricordo di averti vista! Ascoltami, ho bisogno che tu mi metta in contatto con tuo zio! Per quale motivo? Perché è l'unico che sa come rimediare alle perdite di memoria! Ho bisogno di ricordarmi di una persona! Cata, sono solo leggende! Non è capace di fare una cosa del genere! Non funzionerà! Deve funzionare per forza, perché è la mia unica opzione! Ma di chi cavolo ti sei dimenticata? Della mia sorellina, credo! Va bene, ti aiuto! Spero davvero che funzioni! Questo è il suo indirizzo! Quando sei lì, chiama Elda! Lui uscirà fuori! Elda! Elda! Chi disturba la mia pace? Cosa vuoi da me, ragazzina? Mi dispiace disturbarlo! Avrei bisogno del suo aiuto per ricordarmi di una persona a me molto cara! Fammi indovinare, ti sei pentita di aver dimenticato il tuo primo amore, la tua mamma e il tuo paparino? Si tratta della mia sorellina! Sempre la stessa storia? Ti hai rubato la maglietta senza chiederti il permesso? Io non lo so, non mi ricordo! Sei fortunata, siccome sono una persona, il rituale si può fare! Grazie, grazie mille! Fossi in te non sarei così entusiasta, c'è un prezzo molto caro da pagare! Di cosa si tratta? Se una persona cara vuoi ricordare, una persona cara devi dimenticare! Facile! Scelgo Ricky! Ricky? Chi è Ricky? Sì, il mio compagno di banco continua a copiarmi i compiti, è stressante, non importa se lo dimentico! Povero Ricky, per fortuna per lui non funziona così! Ecco i prescelti per il rituale! Dimenticare mia mamma o la mia migliore amica? Non ci penso proprio a dimenticare un'altra persona a me cara! Dimenticare mia mamma o la mia migliore amica? Non voglio dimenticare un'altra persona a me cara! Allora ricordare tua sorella non è così importante, ora se non ti dispiace me ne vado, mi stai facendo perdere tempo! Aspetta! Cosa c'è? Non esiste un altro modo, deve esserci, non posso dimenticare nessuna di loro due! Che problema avete voi protagonisti? Cercate sempre un modo per non seguire le regole, come se voi foste più importanti di tutti gli altri personaggi! Credi che il mondo giri intorno a te? E che un'altra soluzione appari magicamente? Beh, io ci spero, la speranza è l'ultima a morire! La tua speranza è finita, queste due sono le tue ultime opzioni, e io non ho tutto il giorno, quindi ti conviene scegliere! Va bene, ho capito, sceglierò una di loro due! Visto? Alla fine non era così difficile, forza ragazzina! Ora ricordo, ricordo tutto, ricordo mia sorella, grazie mille! Forza ragazzina, non è così difficile! Mi ricordo di mia sorella, grazie mille! Ciao sorellina! Non chiamarmi così, non ricordi di sono! Ma certo che mi ricordo di te! Allora provamelo, cosa ti ho rubato tre giorni fa? Fammi pensare, era per caso la mia maglietta preferita? Esatto, ma allora ti ricordi, sono felicissima! Catarina, sei tornata? Sì mamma, mi ricordo di tutto! Ho dovuto dimenticare una persona, ma non mi ricordo chi era! Hai sicuramente fatto la scelta giusta, ora siamo finalmente riunite! Giulia, te l'avevo detto! Cosa mi avresti detto? Che avrebbe funzionato, mi ricordo di mia sorella! Davvero? E come cavolo hai fatto? Sì, ho dovuto dimenticare qualcun altro, ma non ricordo chi è, quindi chi se ne frega! Giusto! Voi due non dovreste essere in classe? Chi cavolo è quella? Come chi è? È la direttrice, la conosciamo da quando siamo piccole! Non so chi sia!